Il Palio di Primavera porta San Martino il gonfalonierato di nuovo in casa San Benedetto. Così in sintesi una lunghissima e piovosa giornata del 2 giugno a Gualdotadino dove protagonista è stato l'ente giochi delle porte con due appuntamenti in uno il Palio riservato ai piccoli portaioli e l'elezione del gonfaloniere. Andando con ordine la giornata era stata caratterizzata dalla bellissima vittoria di Porta San Martino che con i suoi priorini Filippo Catasti e Elisia Marcacci è riuscita a portare il Palio di Primavera alla taverna di Via Imbriani. Non senza un percorso fatto di ostacoli e colpi di scena. Bravissimi nella corsa a carretto dove sono arrivati i primi con i giocolieri Filippo Passeri e Mattia Lorusso hanno ceduto il passo a Porta San Donato prima nel tiro alla fionda con Damiano Rossi e ancora prima nel tiro con l'arco con Leonardo Parlanti. Gara a pelo decisiva con Porta San Donato a un passo dal Palio le bastava un terzo posto quel passo che è però mancato al suo marello giallo-bianco che Testardo non ha voluto tagliare il traguardo impuntandosi a meno di un metro dalla riga di arrivo. Già superata in prima posizione da Porta San Martino. Spareggio decisivo tra San Martino e San Donato propizza i portaglioli rosso-gialli che con il Fantine e Doardo Mariani hanno vinto il Palio e bruciato la bastola. Plauso a tutti i piccoli campioni scesi in piazza in un pomeriggio umido e piovoso così come onori ai figuranti dei cortei che già mercoledì sera avevano sfilato in piazza presentando temi legati alla primavera. Uno spettacolo in miniatura che ha dato spazio alle giovani generazioni dalle più piccole fino ai 16 anni. Belli priori, protagonisti per un giorno, Jacopo Benzi e Giulia Guerra per Porta San Donato, Francesco Ridolfi e Veronica Catanosti per Porta San Facondino, Andrea Monacelli e Sofia Passeri per San Benedetto, Filippo Catasti e Alicia Marcacci per San Martino. La sera stessa del Palio di Primavera l'ente giochi ha anche rinnovato il gonfaloniere. Cerimonia eccezionalmente alla chiesa di San Donato per indisponibilità della chiesa di San Francesco con la votazione del bussolo che ha nuovamente riconfermata la guida del sodalizio il priore di San Benedetto, Nicola Bossi. Parole e le sue di ringraziamento a quanti lo hanno votato, 42 biglie su 48 disponibili, ma anche di apertura alla collaborazione con tutte le porte. Tra le proposte per l'anno di gonfalonierato, il restauro della statua di San Michele Arcangelo conservata presso la cattedrale di San Benedetto.